eccomi qua da tanto tempo stiamo un po soli vuoi dio sì lo so che la colpa non è tua tu staresti con me ora che hai tanto troppo tempo un tempo infinito il mio invece è sempre breve finito misurato e lo diluisco in mille rivoli anche tu ricordi il tempo non ti bastava mai dovevi sempre fare altro mi piacerebbe credere che ci ritroveremo penso alla certezza della nonna quando parlava dell'aldilà non ammetteva dubbi per ora io non sono capace di illudermi e la ragione prevale sul desiderio ok basta le cose stanno così tu sul colle là sotto il marmo tra i cipressi che ho visto crescere quando passeggiavo bambino io qua da solo a ripensare a noi al passato con te a lasciare farmi trasportare dai ricordi avevo 18 anni quando tu avevi la mia età allora tu mi rinfacciavi spesso di essere vecchia dicevi che non volevi si badasse a te perché avevi già vissuto non guardare a me dicevi io ho finito il mio compito ma tu hai un futuro davanti e ti devi organizzare vivere non volevo rassegnarmi da pensarti vecchia ora secondo i tuoi canoni sarebbe giunto il mio turno a quanto pare dunque a tempo di bilanci che hai fatto della tua vita dovrei chiedere a me stesso a te chiedo cosa penseresti di me se potessi guardarmi vivere sai mi è sempre interessato il tuo giudizio che ne dici di questo personaggio che tu stessa hai generato e sul quale hai riposto aspettative amore sogni lo riconosci ancora gioisci e soffri per lui per le sue miserie per i suoi successi che ne è stato dei tuoi progetti si sono realizzati almeno in parte o devi constatare di esserti portata tutto con te laggiù sotto la pietra dove l'inverno si raccoglie la rugiada ed estate si accendono fuochi l'ultima volta che ti ho vista cosciente tu mi salutavi dal finestrino dell'auto mentre si partiva da casa tua come al solito ci avevi fatto mangiare le cose migliori che avevi trovato all'ultimo minuto sempre di fretta imbastita alla buona con la tua fantasia chiamava sbizzarrirsi in particolari stravaganti al mattino eri stata dalla parrucchiera si vedeva perché eri pettinata con cura di solito ostentavi a trattenere quei capelli ancora castani nonostante l'età e non tinti radi sottili ribelli ma ora docili e composti come lo eri tu quel giorno particolarmente dolce nel salutarci ci hai guardato andare ed hai continuato a seguirci con lo sguardo e con il cenno della mano siamo tornati come al solito alla nostra casa al nostro lavoro ai nostri figli alla nostra vita di sempre interrotta quel giorno solo per farti una visita fugace le nostre vite solo in rare occasioni e per bravi periodi trovavano un punto di contatto stava morendo lo zio a verona ricordi la nonna era morta molto giovane di spagnola ed aveva abbandonato il nonno e voi cinque figli piccoli di pochi anni tu allora ne avevi cinque di anni il nonno si era risposato e con la matrigna la famiglia si era arricchita di altri tre pargoletti povero nonno che non ho conosciuto non deve essere stato facile nemmeno per lui continuare in quei tempi è morto un anno prima della mia nascita e ora anche lui riposa accanto a te tu rimanevi là con il babbo che da dieci anni conviveva con gli esiti della sua hemiplegia ed andava restringendo sempre più i suoi spazi vitali tanto che ora non usciva quasi di casa anche i suoi interessi si andavano riducendo salvo conservarsi potenziata la bramusia di cibo col babbo avevi stabilito senza parlare il tuo compromesso esistenziale così che riuscivi a badare un po lui e un po te ma ormai anche tu stavi cambiando la tua personalità così energica vitale mista di una timida aggressività e di una impulsività infantile e di tanta creatività si andava sfregolando pian piano te ne rendevi conto forse sì da quando avevi perso tua sorella la vecchiaia ti costringe a separarci così rapidamente dalle persone care senza darci più il tempo di adattarci alla loro mancanza la zia se n'era andata rapidamente tre anni prima e ora vi siete ritrovate sotto la stessa pietra il posto che ti hai scelta non hai accettato questa separazione in un primo momento non lo avevo capito sembravi aver reagito bene come avesse rimosso tutto come niente fosse stato ma era solo uno stordimento iniziale e questo avrebbe dovuto insospettirmi tutto troppo bene poi il tempo lentamente ha iniziato a scavare e ricordi emozioni hanno preso il sopravvento non sono bastati altri punti fermi nella tua vita ma quali erano poi il papà in balia dei suoi bisogni elementari noi lontani nel vortice della nostra vita il tuo lavoro che non c'era più e che era stato così importante per te tanto che ancora non riuscivi a smettere del tutto e ti industriavi in lavoretti di ripiego un po' alla volta dicevo il ricordo di tua sorella ha iniziato a insinuarsi a invaderti la vita e i pensieri e tu sentivi bisogno imperioso e rinunciabile di stare il più possibile con lei da lei in cimitero e a parlare con lei morta a curare la sua tomba ad abitare la casa che lei aveva abbandonato a curare i suoi animali e le sue cose ti andavi identificando sempre più con lei indossavi la sua vestaglia da notte i suoi vestiti ti facevi fotografare accanto alle sue foto come per dire vedete questa casa è ancora abitata lei c'è sono io lei e lei non è morta perché ancora qualcuno vive qui e le assomiglia voi due vi siete sempre assomigliate moltissimo così lei continuava a vivere in te e tu morivi lentamente in lei e il tuo esistere si andava concentrando intorno ad un unico luogo e ad un unico nucleo di interesse quel giorno avevi fatto più tardi del solito al cimitero ti eri fermata un momento da una tua amica per prendere un vestito da cucire e lo avevi messo sul manubrio della bicicletta ti portavi del lavoro a casa quando hai ripreso il viaggio stava per imbrunire la strada in un primo lungo tratto scendeva rapida ti vedo lanciata lungo il pendio con il vento in faccia la zia aveva anche le gonne al vento ma tu ormai portavi solo e sempre i pantaloni avrei dato uno sguardo passandoci davanti alla casa dove sei vissuta ragazza con tuo fratello prima di sposarti forse correvi troppo veloce per poter ripensare a quei tempi forse avevi in mente il babbo che ti aspettava per la cena poi sei passata davanti alla chiesa dove è stato celebrato il tuo matrimonio alla fine la discesa si interrompeva in un breve falso piano e la strada riprendeva a salire restringendosi e contorcendosi in una stretta curva la conoscevi a memoria perché ormai da anni la percorrevi in bicicletta almeno due o tre volte alla settimana quando non di più quel giorno era febbraio le giornate corte salivi e la luce cominciava a venire meno avrai acceso il canale so solo che tu non sei mai stata molto lì già alle regole specie quando andavi per strada proprio là dove la strada era più stretta mentre tu passavi due automobili si sono incrociate avranno avuto fretta avranno ben calcolato lo spazio a loro disposizione non lo so resta il fatto che l'auto che procedeva al tuo fianco nel superarti forse non ti ha vista o forse ha calcolato che sarebbe passata senza problemi ma ti ha sfiorata ha ortato il manubrio oppure l'hai sentita così vicina che hai preso paura e sbandato verso destra non lo so nessuno me lo ha mai detto alla tua destra un muretto basso delimitava la carreggiata là tu sei caduta e ci sei andata a sbattere la testa era pomeriggio ormai avanzato io ero a casa al pianoforte quando è arrivata una telefonata da mia cugina i parenti che non si sentono mai quando si fanno vivi portano sempre cattive notizie quel giorno la notizia era terribile ma data con un tom che voleva falsamente essere tranquillizzante mi avvertiva che eri in corsa in un leggero incidente e che eri in pronto soccorso un'ora dopo siamo là non ti troviamo sei già partita proseguiamo per raggiungerti ma ci dobbiamo fermare nella sala d'attesa della neurochirurgia sei già in sala operatoria qualcuno sta già attrapanandoti il cranio le ore passano in silenzio è calato il silenzio e non ci sono parole per esprimere ansie sospetti e la quasi certezza che qualcosa di irrimediabile sia compiuto mi risuonano in testa le brevi frasi che ci eravamo detti la notte prima quando mi avevi chiamato al telefono per comunicarmi la morte dello zio era una morte attesa che giungeva dopo breve inguaribile malattia ma tu non riuscivi mai a farti una ragione della morte dei tuoi cari ci mettemmo d'accordo per presenziare insieme al funerale quella al telefono le ultime parole tra noi non ci saremmo recati a quel funerale sicuramente tu non avresti potuto la mattina successiva sono entrato in sala di rianimazione piacevi immobile la testa fasciata il viso cereo fisso un tubo in gola che collegato a un respiratore ti teneva artificialmente in vita ti ho preso la mano fredda e ti ho sollevato le palpebre a scoprire gli occhi vitrei e le pupille fisse ho avuto la conferma dei sospetti più neri e mi sono lasciato andare a un senso di rassegnazione e di impotenza non ho chiesto conferme ai medici che ti avevano in cura quanto potevo constatare già mi bastava io e te forse non avremmo più potuto parlarci sei rimasta qualche giorno laggiù in cura intensiva neurochirurgica il tuo cervello si era allacerato aveva sanguinato al suo interno i tessuti spappolati il chirurgo aveva trapanato il tuo cranio e cercato di esportare sangue frantumi di ossa e materiale necrotico qualcuno mi ha detto che durante il permanere in pronto soccorso eri ancora lucida chiamavi e chiedevi di me ma io in quel momento non c'ero non ero riuscito ad arrivare in tempo poi dopo l'anestesia l'intervento e il coma ora il tuo cervello provato dal trauma non era più in grado di pensare di sentire o provare sentimenti passioni non eri più una persona ma un corpo che vegetava in arte in un letto accanto a una macchina che ritmicamente respirava al posto tuo sei sopravvissuta così nei primi giorni in rianimazione le condizioni tendevano a rimanere stabili a questo punto avresti potuto essere seguita anche in un altro ospedale dove io lavoravo saremmo potuti stare vicini e così si è deciso per il trasferimento sei volata con l'elicottero bianco sopra la tua pianura ed era il tuo primo volo averti qui poterti stare vicino è stato come una grande iniezione di speranza di energia della volontà dovevi farcela prima tappa uscire dal coma e poi recuperare il più possibile di quello che era rimasto tutti ci eravamo messi di impegno per dare corpo a questa speranza ogni giorno abbiamo spiato la comparsa di un piccolo movimento nuovo di una minima reazione al dolore di una scossetta un livello sussulto delle palpebre abbiamo cercato di evitarti complicanze di muoverti dolcemente sul letto di toglierti le secrezioni che ci andavano formando andavi riprendendo un colorito roseo tu rimanevi nel tuo mondo di silenzio allora abbiamo registrato una cassetta con la voce del babbo mia dei nipoti le tue canzoni di una volta e ti abbiamo infilato una cuffietta sugli orecchi nella speranza che continuare ad ascoltare suoni amici e familiari potesse aiutarti a recuperare un po di vigilanza in quel mondo surreale che è una sala di rianimazione giorni dopo qualche movimento cominciavi a flettere le gambe al dolore a respirare per qualche breve tratto anche un po da sola e movimenti da prima minimi al dolore si sono trasformati in irrequietezza soprattutto alle gambe stavi riprendendo almeno il movimento ma continuavi a non riconoscermi e a non comunicare con il mondo circostante non parlavi continuavi a stare in uno stato di coma sia pur più leggero questi progressi accrescevano la speranza ora diventava importante poterti alzare dal letto il più presto possibile col passare del tempo le complicanze diventavano più probabili si doveva metterti seduta farti respirare da sola alimentarti senza sondino ma tu ci aiutavi molto poco rifiutavi il cibo eri sempre più agitata ed irrequieta non si riusciva a tenerti ferma nemmeno a letto respiravi a fatica e ti soffocavi nel catarro un giorno in reparto per la prima volta ho avuto la sensazione che seppure in modo confuso mi avessi riconosciuto era il momento della speranza sapevamo che il tuo cervello era allacerato che non saresti più tornata come prima avresti potuto riemertere dal tuo torpore riprendere un contatto con il mondo dei vivi e da lì chissà è stato un momento breve hai cominciato nuovamente ad assopirti ad essere sempre più agitata incontenibile a tossire un catarro più denso che si formava in continuazione un altro strato di liquido sanguigno si era formato tra il tuo cervello e il cranio in un altro disperato tentativo si è cercato di rimuovere anche questo si è tornata in elicottero in neurochirurgia operata e rientrata con una nuova benda bianca sul capo da allora però le cose hanno continuato a peggiorare era una broncopolmonite un catarro sempre più denso usciva dai tuoi polmoni non mangiavi nessun contatto continuavi ad agitarti senza pose era il momento di rassegnarsi ha chiuso definitivamente gli occhi per sempre e il silenzio si è fatto perfetto non ti sei accorta di morire perché in realtà eri già morta il giorno in cui sei caduta il tuo cervello era ormai diventato una pappa informe e mollizza e così ti abbiamo accompagnato all'ultimo viaggio verso il posto dove ora riposi accanto alla zia che finalmente non dovrai più lasciare e accanto a tuo fratello che tanti anni prima di te quando era ancora bambino è morto pura in un incidente stradale sulla stessa via non più lontano da un chilometro da dove sei caduta tu non ricordo se ho pianto durante il tuo funerale ricordo solo qualche lacrime e cercavo inutilmente di frenare ma in quei lunghi mesi avevo già abbondantemente elaborato la tua assenza e la tua morte grazie a tutti grazie a tutti